Chiarissimo. Simone Canettieri, che cosa è successo ieri nel Consiglio dei Ministri? C'è stato l'ennesimo braccio di ferro? Perché? È successo che di fatto su questa ultima stretta si sono un po' andate a sfogare una serie di dinamiche esterne che sono ormai dentro però al governo. L'ultima era ovviamente la vicenda della manovra che ha compresso ancora, come purtroppo accade sempre più spesso, il potere del Parlamento, quindi è arrivata alla fine blindata con un subremendamento, fiducia, fine dei giochi. Quindi da questo, come sempre, i partiti, magari anche dal loro punto di vista, giustamente scalciano e quindi vogliono protagonismo. E quindi questa è stata la prima valvola di compensazione, ovviamente è come sempre accade, è stato il Consiglio dei Ministri, prima ancora la cabina di regia. E poi c'è il grande tema della grande partita che è quella del Quirinale. Da una parte c'è Draghi, e questo abbiamo visto, e dall'altra ci sono i partiti. tutti con le rispettive idee e con le rispettive strategie. Però c'è in questo momento una divisione che è sostanziale. È una divisione anche di strategie, di vedute, soprattutto di futuro, per i partiti, per la registratura, per Draghi. Iriniti.